siamo al dolomiti a parte rubs di passo di lava zè proprio alla conclusione del raduno della squadra femminile ci troviamo con astrid plosh e tanto ciao astrid e dici poi come come si è chiuso questo questo raduno allora ciao a tutti è stato abbastanza impegnativo abbiamo fatto dei lavori e oggi abbiamo concluso il raduno appunto con un test e andare un po meglio però non importa sono comunque soddisfatta del lavoro che abbiamo fatto anche nei giorni scorsi anche perché ho fatto abbiamo fatto un bel blocco in alta quota quindi sì anche perché voi avete avuto mi sembra una settimana a casa prima eravate andando in francia a bessan quindi avete fatto un bel periodo di quota quindi immagino si si arrivi proprio al limite alla fine è abbastanza anche perché comunque vivo in un posto abbastanza basso quindi arrivare in queste quote fa abbastanza pesante e si tu vieni da tarviso che proprio non è di solito scuola biathlon sia più sci di fondo salto combinata abbiamo anche qualcuno anche di sci alpino ma viatron sei un po una pioniera si diciamo che adesso c'è un'altra ragazza che ha iniziato a fare biathlon però fino a prima non c'era nessuno insomma e quanti chilometri ti facevi quasi ogni giorno per andarti ad allenare fino a fornia voltri per poter sparare non so adesso quanti chilometri sono ma sono tipo un'ora e quaranta un'ora e cinquanta di viaggio oppure da poco c'è dall'anno scorso che qualche volta vado anche a pochiucca è molto più vicino sta a un'ora da me quindi diciamo che dall'anno scorso vado più spesso a pochiucca e studiavi in macchina praticamente eh sì studiavo in macchina qualche volta mi toccava anche mangiare in macchina vabbè è stata per passione lei fa tutta colpa di Mirko Romanini da quanto sappiamo perché è stato lui a farti provare sì perché inizialmente facevo sci di fondo poi un giorno a caso che ero a fornia voltri con mia sorella dato che doveva fare allenamento anche lei di sci di fondo insomma e boh me l'ha buttata un po' lì di provare a sparare dato che c'erano anche i biatleti e quindi niente da quel giorno il biathlon mi ha iniziato ad appassionare di più senti come è stato questo ingresso nel gruppo Milano Cortina insomma adesso sei entrata tra le ad allenarti con le senior praticamente hai la fortuna di avere due allenatori che avevi anche l'anno scorso quindi magari hai sentito un po' meno lo stacco però ecco cosa cosa è cambiato ma principalmente intanto sono contentissima appunto di essere in squadra B poi è bello anche potersi allenare con persone un po' più grandi di te poi abbiamo fatto anche dei raduni con la squadra A quindi è ancora più stimolante vedere come lavorano anche loro e niente abbiamo quest'anno abbiamo aumentato un po' le ore però chiaramente non si può neanche esagerare troppo perché a volte se no si rischia di far peggio diciamo non tutto insieme saranno cose, elementi da inserire pian piano senti com'è allenarsi e vedere Lisa lì da vicino per te insomma? Eh sicuramente è bello perché magari riesci a cogliere anche qualche dettaglio che può servire anche te che può magari risparmiarti qualche secondo in più anche in gara poi appunto è l'atleta top di adesso quindi è sicuramente una bella cosa Senti c'è qualche aspetto particolare che devi migliorare? Ovvio che un atleta vuole migliorare in ogni aspetto però c'è qualcosa in particolare su cui vuoi lavorare? Boh diciamo che c'è sempre da migliorare appunto però vorrei migliorare principalmente sui vc poi chiaramente anche sul tiro sulla velocità magari del tiro perché faccio ancora un po' di difficoltà in qualche serie però sì, vorrei migliorare di più sulla parte tecnica diciamo Allora il martello sarà importante per tutte voi perché ci saranno queste selezioni WK l'anno scorso hai comunque da junior esordito anche già in WK quindi racconti un po' che esperienza era stata Beh è stata una bella esperienza tra le bing praticamente perché comunque c'era gente anche che era già stata in Coppa del Mondo quindi si vedeva subito la differenza tra magari la Junior Cup e l'Ibu Cup e c'è ancora tanto su cui lavorare però io credo anche questo avere la consapevolezza che c'è tanto su cui lavorare dà anche qualche stimolo ancora in più, motivazione Beh sicuramente anche perché appunto gli anni passano e diciamo che la qualità di allenamento si è alzata molto quindi bisogna lavorare e basta Grazie a tutti Grazie a tutti